Alcuni sono convinti che l'immigrazione è solo quella che arriva coi barconi, ragazzi non è solo così, molto è quella che inizialmente sembra un normale e regolare flusso turistico. Una volta che il soggetto è entrato poi si può muovere liberamente, il che significa che è una massa che poi gira nei vari paesi. Io dopo 28 anni che vivo in Italia, mia madre vive qua, mio padre vive qua, regolari d'Italia, le mie sorelle vivono qua, mia sorella ha 5 bambini e un'altra ha 4 bambini. L'Italia è la mia terra secondo me, perché sono cresciuto qua. Non passa mai, tempo, non passa mai. È difficile, come fai a passarlo? Stai o in camera o stai qui, cosa devi fare? Lavorate! Dove lavorate? Guarda gli sta cazza della camera, non stai cazzo! Eh, guarda Dio! Il tentativo di lungo a settore è, è fuori. Uuuuuh, è effettivamente. Grazie.